Buongiorno ragazzi, si torna al lavoro, ottima giornata di sole oggi, ci sono 24 gradi quindi c'è la temperatura perfetta Poi una volta non è necessario avere il condizionatore a palla Niente ragazzi, torniamo al lavoro, oggi mi sono svegliato con tutti i muscoli indolenziti perché ieri il paddle mi ha veramente No, cioè non è che mi ha distrutto, non ero stanco, raramente dopo uno sport mi stanco ma ho fatto attività con muscoli che non usavo prima Quindi ovviamente c'è la, com'è che si dice, noi diciamo carne grea, penso sia dialetto però, oddio che capelli Vabbè comunque adesso andiamo in ufficio, si va in ufficio, sono partito un po' più tardi del solito, mannaggia a me volevo partire in anticipo Ma purtroppo mi sono perso via, mi sono fatto colazione visto che non avevo più frutta e mi sono fatto delle fette alla, neanche nutella Era una crema di nocciola cartigianale molto buona, molto buona E oggi mi sono anche dimenticato gli occhiali da sole, mannaggia a me, di solito ne tengo sempre un paio in macchina di backup E stavolta invece, impossible Ok, ora ci buttiamo Così, perfetto Di cattiveria Nella mia via ho visto che stanno facendo dei lavori in un pezzo di terreno, in un lotto Che è tipo una giungla da quando sono nato, non solo da quando io sono nato, ma da quando mio papà è nato Cioè è tutta la vita che ha abbandonato questo punto E adesso, ieri ho visto una ruspa, un camion che lavoravano Quindi sembrerebbe che stia iniziando a fare qualcosa Comunque ragazzi, oggi non penso di mangiarmi la pizza Al ristorante penso di vedere cos'hanno lì Perché in questi giorni ci ho veramente dato dentro Mi sono veramente ingozzato delle peggiori cose E quindi, a parte ieri sera che mi sono mangiato Alla fine non era proprio una caprese Perché ho cambiato all'ultimo Mi sono fatto sì una mezza caprese Ma anche un paio di bruschette Giusto per aggiungere un pochino di pane, di semola Pane di sengala E quindi comunque ho mangiato leggero E ci stanno, cioè ci stanno, mi sono ingozzato Ci stanno, mi è piaciuto Il fatto sta che oggi voglio mangiare un po' di verdure E magari se c'è del pesce Magari ci c'è Magari se c'è del pesce, ma vediamo un po' Comunque ragazzi ora mi ascolto un po' di musica Ho bisogno di staccare, noi ci sentiamo dopo Ragazzi ricordatevi che il Dio Algoritmo prevede il vostro like Quindi veloci, mettetelo subito se non l'avete già fatto Non ho fatto neanche un video oggi Sono stato presissimo Cioè dopo il lavoro sono andato in palestra Dopo palestra sono andato diretto da dei clienti A fare un appuntamento A discutere di nuovi lavori E finito quello In tutto questo ho mangiato una focaccia al bar, al volo E poi sono andato a lavorare stasera al Tennis Club Mi ha chiamato mentre ero in palestra Se potevo andare su a fare delle foto C'era questa persona qua che suonavo E ho detto vabbè senti Dai 10 all'una Adesso vado a letto, sono morto Tutto questo come al solito ragazzi Aiutiamo il Dio Algoritmo a capire che esisto anch'io Quindi mettetevi un piaccio, commentate Iscrivetevi al canale Numerosi E datemi un po' del vostro amore Del vostro entusiasmo Perché se no non ce la posso fare Noi andiamo felici, feroci Sempre a salire con il numero di video Con il numero di episodi ragazzi E ci vediamo domani, prossimo video Bagioni